Oggi parleremo del frumento in Toscana. La presenza del frumento in Toscana è antica, ma in questo breve spazio ci concentriamo sulla storia recente del cano in Toscana, a partire dal XVIII secolo. Perché è importante partire dal XVIII secolo? Perché è un momento di svolta. Attorno alla seconda metà del Settecento, la Toscana, ma direi tutta l'Europa, si trova in una fase di espansione demografica. È necessario quindi alimentare un maggior numero di persone ed è quindi necessario trovare nuove terre coltivabili, soprattutto aumentare le superfici di grano e migliorare le produzioni e le rese. In questo senso, un contenuto importante fu dato dalla nascita dell'Accademia di Giorgofli proprio nel 1753 a Firenze, che si dedicò essenzialmente allo studio dell'agricoltura. Nel nostro Granducato, l'acquisizione di terre si realizzò portando a compimento le grandi bonifiche iniziate sotto il periodo mediceo. E quindi parte delle aree interne della Toscana, dal lago di Bientina, a Fuscecca, parte della Chiana, allo Smannor, furono interessate da ampi lavori di bonifica per ottenere terreni asciutti e coltivabili. Parallelamente furono introdotte nuove superfici dalla coltivazione di terreni, soprattutto collinari, prima occupati da boschi e da inculti. Le tecniche di produzione del grano erano le solite da secoli e in questo non c'era stata grande innovazione. Dopo la lavorazione del terreno, il grano veniva seminato a spagli e poi raccolto a mano. Battuso venivano raccolte le cariossidi e stivate in vario modo fino a che non si provvedeva a fare la farina. Ma per conoscere quali fossero i cereali più utilizzati in Toscana e nel loro uso, trovo che le informazioni più interessanti ci vengano proprio da un libro. Stampato nell'ambito di Giorgofidi, pubblicato nel 1765 da Musche a Firenze, l'autore è Saverio Manetti, scienziato, botanico e agronomo in qualche modo, e il libro ha un titolo interessante che è delle specie diverse di frumento e di pane siccome della panizzazione. Il volume apparve in un momento particolare ed è per questo anche che è importante, perché in quegli anni la Toscana fu colpita da una serie di eventi climatici particolarmente severi che portarono ad una serie di carestie aggavate dall'apparizione della ruggine del grano che finì per devastare i raccolti di frumento. I prezzi della farina salirono vertiginosamente e la fame iniziò a farsi sentire un po' per tutto il Gallo Cato. Gli scienziati raccolti attorno ai Georgofli trovarono che era necessario agire fondamentalmente in due modi. Il primo nell'immediato consisteva nel provvedere a trovare sostanze e prodotti alimentari succedanei del frumento da utilizzare per sfamare la popolazione. Ma era anche necessario, forse nel più lungo periodo, trovare e migliorare nell'agricoltura toscana nuove varietà di frumento nel tentativo quindi di acclimatare quelle straniere per vedere se potessero essere più produttive nel nostro clima e nei nostri terreni e aumentare così la produzione diciamo per unità di superficie.